È stato un incontro molto cordiale, anche toccante sotto il profilo umano. La tragedia di Vigopiano è stata davvero una tragedia unica nel suo genere. C'è grande amarezza e anche preoccupazione per il fatto che ci sono voluti praticamente sei anni per arrivare in primo grado di giudizio, nonostante il grado abbreviato. Noi ci impegneremo per fare in modo che il processo di appello avvenga nei tempi più stretti possibili. Che si possa arrivare ad avere una verità e una giustizia nei tempi utili perché si possano chiamare giustizia e verità. La menina di si è commossa ricevendo la lettera delle... Beh sì, ha mostrato la sua tipica umanità anche in questa occasione. Ma d'altronde è difficile non commuoversi quando vedi madri, vedomi che hanno bambini che scrivono la lettera, o un mamme che riescono a capacitarsi per la perdita dei propri figli. Insomma, è chiaro che sono incontri da questo punto di vista molto, molto toccanti.